buongiorno allora buongiorno oggi 8 aprile 9 30 e apriamo con il caffè della mattina do il buongiorno in audio alla dottoressa bernasconi buongiorno a tutti eccoci qua morta mamma mia e chi ce la fa no che veramente con questa situazione stiamo prendendo tutti un al tutti io sto prendendo un ritmo un po strano e difficile organizzarsi la mattina sì sì si è finito e si finisce facilmente nella 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 patia così è vabbè comunque e niente volevo far vedere un po a tutti quanti stamattina uno strumento che reputo molto potente e che può farci può aiutarci in questo momento in cui stiamo lavorando da casa oppure andiamo in studio che è quello del vedere a devo tirare sulla il sipario aspettate il sipario eccolo qua e del vedere il il l'estratto conto dei fornitori allora ci sono due modi carini che mi piacciono molto quello più potente è quello del andando su fornitori e qua non so se si vede se credo che si veda aspetta devo abbassare qui la cosa ok eccolo qua c'è azioni sì no no perché purtroppo per far vedere così grande aumento il il la risoluzione non la diminuisco e quindi sì vabbè l'importante vede un po più grande tanto insomma non deve leggere quello che c'è scritto nella finestra ma andare a cliccare sul pulsantone insomma quindi questo sempre perché l'interfaccia utente non è sempre intuitiva io gli ero un po contestato alla di lui mi ha detto ti ricordi daniela ci ha detto che l'interfaccia utente è sviluppata in modo che il l'utente mano mano che chiede le cose gli appaiano davanti il menu ecco e così è nel senso che qui c'è scritto azioni c'è una freccetta quindi indica il fatto che dobbiamo cliccarci dentro e dentro ci sono una marea di menu e una marea di menu o anche abbastanza importanti insomma tra cui estratto conto adesso vi faccio vedere un fornitore ecco qui seleziono il fornitore azioni estratto conto ok e questo no no in verità no nel senso quello è il secondo modo che volevo far vedere questo è un po più potente nel senso che mi mi fa vedere in un arco temporale tutte le fatture pagate tutte le fatture da pagare molti me l'hanno chiesto no cioè far vedere tutti i movimenti di tutti i condomini di quel fornitore va bene qui possiamo selezionare il periodo 1990 non lo so dicono stupidaggi e fino ad oggi di questo fornitore di tutti i condomini e possiamo all'interno di questa stampa vedere tutte le fatture pagate tutte le fatture da pagare oppure solo tutte le fatture da pagare oppure solo tutte le fatture pagate oppure solo quella di un condominio quindi questo lo reputo uno strumento molto potente ovviamente a questo punto ci si può arrivare anche da estratto conto vedete questo c'è scritto estratto conto va bene oppure dal fornitore io preferisco dal fornitore per avere maggiore visibilità dal fornitore possiamo anche vedere i movimenti solo di questo condominio solo di questa gestione va bene io non so adesso qui se ho qualche cosa no va bene e quindi questo lo reputo uno strumento molto versatile e molto potente quando uno vuole avere cognizione di quello che sta facendo con quel fornitore ovviamente la disponibilità di quel momento di quel fornitore è il famoso controlle f e e lo abbiamo le fatture da pagare solo di questo condominio solo di questo fornitore oppure di tutti i condomini di quel fornitore va bene lo shortcut allora diciamo da strumenti da strumenti vedete che qui accanto c'è scritto control più f per ogni cosa c'è uno shortcut va bene quindi potete andare su strumenti scadenzario fornitori e cliccare su scadenzario fornitori oppure control f aspettate vi faccio vedere la control ecco in basso vedete che io vi sto facendo vedere qui sotto di qua vi sto facendo vedere cosa sto premendo io control più f eccolo la e viene fuori il lo scadenzario fornitori la cosa dello scadenzario fornitori quella che vedo io io vedo molto spesso quella che vedo molto spesso io è questa va bene viene il fornitore da me e io mi metto su tutti i condomini seleziono tutti i condomini e mi seleziono il fornitore ok e vedo il suo estratto conto vedete qui c'ho diversi condomini con fatture da pagare il discorso è che qua dentro ho le fatture da pagare molti mi hanno chiesto anche lo scadenzario fornitori c'è ma non si vede ritenuto a conto non servirebbe vedere ritenuto a conto nello scadenzario fornitori comunque c'è sì comunque c'è insomma mostra ritenuto a conto e eh certo 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 è normale infatti la la il caffè della mattina di questa mattina era voluto proprio per farvi vedere come dare un'occhiata al pagamento dei fornitori perché eh tenendo presente che io ho i conti scarichi nel senso non sta pagando più nessuno il condominio e quindi ho mandato una lettera generale chiedendo di a che è quella che abbiamo concordato insieme no eh esatto l'abbiamo vista insieme e di non interrompere ah mi sa che daniela non ti senti io io mi sento bisogna vedere se mi sentono gli altri non si sente l'altra voce non si sente daniela allora e allora cosa mi collego a fare cazzo l'altra volta ero in cuffia che parlavi con me no è che io ti sento loro dicono che non sentono ma loro non mi sentono mai perché tu fai apposta tenermi a volume basso dateci conferma adesso sì adesso sì grazie teresa tra l'altro teresa sei stata carinissima mi hai mandato un buongiorno stamattina ma c'è fanelli mi ha avvertito dieci minuti prima di questa live quindi ho praticamente aperto gli occhi con voi esatto ora sì ora sì ok a posto e niente allora scusate mi ripilochiamo velocemente daniela mi chiedeva di far vedere il control il control f e l'ho fatto vedere insomma il mio audio credo che si sentisse c'è sempre un problema è il bello della diretta si va bene il discorso era era questo quello 10 cioè approfittate del del di questo momento per dare per dare un'occhiata ai fornitori rifai la domanda che vi hai detto che mi avevi chiesto Dani sì chiedevo appunto se anche Daniele nella percezione che ha ha trovato un approccio diverso in questi giorni da parte dei fornitori dicevo che io ieri l'altro giorno per alcune brutte situazioni di coronavirus sono dovuta andare in ufficio ho avuto anche cancelli bloccati quindi sono dovuta andare a recuperare chiavi di sblocco eccetera per cui mi sono auto fatto un permesso per eccezionalmente andare a lavorare certo e quello che è accaduto è che oltre alle solite mail del fornitore che insomma battono cassa o a fine mese o inizio mese quest'anno avevo veramente un sacco anche di biglietti nella cassetta delle lettere un sacco di anche pizzini vari gente che ha tentato di passare per entrare in ufficio perché comunque chiaramente questo clima di incertezza fa sì che anche se le tasse le scadenze per alcuni siano rimandati chiaramente poi torniamo al discorso di imprenditori non tutti hanno messo in casa integrazione dipendenti comunque c'è c'è area di crisi al di là del fatto che poi le buste paga di marzo dovrebbero essere state delle buste regolari in funzione del fatto che sono state calcolate sugli stipendi di febbraio per cui in realtà la crisi vera non è ancora arrivata il clima di incertezza e qua torniamo alla comunicazione che fa sì di tentare di prevenire delle situazioni anche da parte degli imprenditori noi stessi lo siamo per cui non nascondo che ad esempio io questo mese ho deciso in qualità di titolare della mia srl di non pagarmi lo stipendio cioè preferì ho preferito rinunciare allo stipendio in funzione del fatto di avere eventualmente maggiore liquidità per i miei ragazzi nei prossimi mesi certo per cui chiedevo se questo tipo di scelte aziendali da parte dei fornitori anche così distanti a 500 chilometri se la stessa cosa anche su roma è così è chiaro che così stanno chiamando tutti quanti pregando di pagarli ma io veramente ho i conti scarichi ed è il motivo della lettera che abbiamo fatto la volta scorsa di chiedere ai condomini per quanto possibile di continuare a pagare le rate condominali per non fermare la macchina condominio e ora i fornitori che lavorano con me lavorano da 25 anni quindi è chiaro che ci vanno comunque perché tanto sanno che prima o poi i soldi li prendono però è chiaro che stanno andando in affanno insomma ecco nel mio caso daniele tengo a dirti che ho già ricevuto tu sai che io registro gli incassi tra il fine mese i primi del mese e quindi essendo oggi in sette lotto un po' verso il conto dei giorni li ho appena finiti di registrare la cosa che mi ha piacevolmente sorpreso è che seppur c'è stata una flessione negli incassi chiaramente poi non avendo fatto le assemblee io le scadenze scaglionate su tutto l'anno non ho scadenze solo al 31 12 quindi comunque faccio assemblee ordinarie tutto l'anno certo però devo dire la verità che ho piacevolmente ottenuto degli ottimi risultati seppur con una leggera flessione sugli incassi ho i conti ancora abbastanza non voglio dire pieni ma comunque decorosi ecco per cui evidentemente anche una lettera ben strutturata ha prodotto dei risultati tu l'hai mandata qualche giorno di me magari questo discorso proviamo a vederlo tra una settimana e poi avremo Ivan Giordano come super ospite anzi lo dobbiamo chiamare io e te in questi giorni che ci racconterà degli strumenti alternativi per poi tentare di fare i piani di rientro esatto io sono molto molto preoccupato e Teresa d'amico dice ma voi avete fatto le rate sulla base del preventivo approvato dell'anno precedente io veramente sono 25 anni che faccio così nel senso che comunque in attesa dell'approvazione del preventivo non è che posso aspettare che sia se approvi il preventivo i fornitori chiedono comunque soldi le bollette dell'acqua dell'elettricità comunque arrivano a prescindere che tu abbia approvato meno il preventivo quindi in forma di acconto emetto le rate le prime rate sulla base del preventivo precedente questo ripeto è la policy di tutto quello che stiamo cercando di fare io vi faccio vedere quello che faccio io non è legge io faccio così poi voi fate come ritenete opportuno io ho tutti gli anni apro il preventivo nuovo e inizio a mandare le rate la prima rata la seconda rata non le mando tutte insieme perché i miei poi si si dimenticano li ho abituati così avete visto nei precedenti video che i bollettini prisma li mando li mando già dal 2014 va bene che li ho abituati c'è stato un momento di transito non vi nascondo che c'è stato qualche qualche problema iniziale però in maniera molto serena e tranquilla chi telefonava in studio ci sono stati i miei collaboratori hanno sempre spiegato che da quel momento in poi no mi pare che ho fatto una lettera circolare dicendo che avrei inviato il bollettino in formato prisma e che avrei preferito il pagamento a mezzo bollettino prisma per avere una rendicontazione più attenta e precisa per come abbiamo conto daniele che teresa è una carissima amica di torino che ci segue solamente da una decina di giorni tra l'altro cara amica anche di francesco schiena che salutiamo e che avremo nostro ospite per cui teresa magari in questo senso in tutti i tuoi cento video magari se ne è perso qualcuno per non ci segue dall'inizio per cui teresa comunque sulla pagina youtube trovi tutti video anche per andare a vedere quando abbiamo parlato di rate d'acconto di fondi tecnici per mandare avanti il condominio e quant'altro troverai anche una meravigliosa metafora di daniele quella sul bicchiere d'acqua che tanto è piaciuta ma è stata una fulgita intuizione nel senso che i condomini continuano a chiedermi no perché pago il condominio perché pago il condominio in maniera perché io che lo pago a fare il condominio e che qui non si vede niente no perché invece nel momento in cui racconto questa questa storiella poi li vedo proprio dal dall'espressione che cambiano atteggiamento vabbè dai tra un estratto conto e l'altro raccontala anche stamattina dai mentre ci fai vedere mentre vi faccio vedere il il caffè mentre vi prendete il caffè per teresa per teresa per teresa e aspetta che c'ho nella che mi sta chiamando nella sto in diretta non mi chiamate in diretta e ma niente io la sorella è questa è breve e rapida anche perché stiamo a 16 minuti e la sera voi uscite dall'ufficio e stanchi morti prendete la macchina e tornate a casa con la vostra bella macchina imboccate la rampa del garage entrate nel garage mettete aprite il vostro box mettete la macchina dentro il garage parlo no quello che succede a roma e mettete la vostra bella macchina nel garage chiudete il vostro box andate verso l'ascensore prendete la vostra bella ascensore arrivate sul pianerottolo di casa e aprite prendete il mazzo di cavi aprite la vostra bella porta andate in cucina vi prendete un bel bicchiere d'acqua quindi aprite l'acqua vedete a roma si beve l'acqua che è abbastanza buona poi andate in bagno mi lavate le mani mi lavate la faccia vi lavate i denti fate i vostri bei bisognini e stanchi morti vi mettete a letto finalmente insomma avete risolto il problema della giornata e spingete la luce e vi mettete a dormire la la metafora di tutta questa bella storiella del bicchiere d'acqua è che il condomino pensa di non aver utilizzato nessuno delle porzioni condominali o nessuno delle attività condominali siete arrivati davanti al cancello del garage passo carrabile si è aperto il cancello del garage elettricità del cancello manutenzione del cancello si sono accese le luci del garage manutenzione pulizia del garage manutenzione elettrica dell'impianto elettrico di antincendio avete preso l'ascensore forza motrice ascensore ditta ascensori verifiche biennali siete arrivati sul piano erottolo manutenzione pulizia delle aree comuni del piano erottolo manutenzione dell'impianto elettrico se avete potuto mettere la chiave dentro la toppa di casa è perché c'è la luce che qualcuno ha manutenuto e c'è qualcuno che paga l'elettricità siete riusciti ad andare dentro la vostra cucina a bere l'acqua che paga il condominio siete riusciti ad andare in bagno vi siete lavati le mani con l'acqua del condominio e avete fatto i vostri bisognini impianto manutenzione impianto fognante manutenzione delle colonne siete riusciti ad andare a letto il tutto gestiti da un amministratore che sono io e assicurati dov'è che non avete utilizzato il condominio e la gente rimane così e dice non me ne sono mai accorto esatto voi non vi accorgete sapete che esiste qualcuno che gestisce il condominio per farvi andare tutti i giorni dall'ufficio a casa a bere un bicchiere d'acqua questa è la situazione reale comunque bene dai l'ultima che due coglioni Gianluca no no anzi se ci autorizzi non ti dobbiamo pagare il copyright vale quanto la mia metafora del salvadanaio per spiegare la patrimoniale ma sì sì sono giocherelli insomma ecco Gianluca già si è rotto già si è rotto le scatole di quello che ho raccontato comunque bene per chiudere il video era solo per farvi vedere ecco i due modi insomma uno da scadenziare fornitori che sicuramente piano piano state tutti quanti utilizzando per vedere gli estratti conto dei fornitori e questo strumento che ripeto entrate nell'ottica di idee che il programmatore ha generato ogni schermata a secondo di quello che dovete chiedere quindi ci dovete cliccare dentro la sostanza che dovete cliccare dentro ogni tipo di pulsante ecco se vi ha messo una un attage qua una una come si chiama da voi la ponessa no la ponessa la puntina la l'attaccina e vuol dire cioè di cliccare dentro guarda Milano nessuna di queste tre parole è complessibile come si chiama boh come si dice questa il pulsante no c'è la l'attage come si chiama il attachment tu lo dici in francese la graffetta la graffetta ecco se non mi veniva ho capito che hai vissuto in francia però attage dopo la storia di della buonanotte di fanelli possiamo tornare a dormire ormai le clips ecco vedi che stanno venendo fuori le clips ecco se c'è una clips la graffetta la clips è qua vuol dire che ci dovete cliccare dentro alle gatici a un pulsante cliccateci apri e viene fuori tutto quello che voi avete scritto al fornitore come pure qua molto carino ci sono gli interventi mostra interventi di quel fornitore se io metto qui il fornitore mio qui ci sono tutti gli interventi mostra interventi di tutti i condomini eccoli qua va bene aperti e non aperti quindi quando viene il fornitore questo però è legato al mio condominio e agli interventi di cui dobbiamo parlare sì diciamo che va anche sul mio condominio ogni intervento può essere visualizzato sul mio condominio però poi dai cercheremo di fare un cercheremo di fare un video a parte proprio su tutte le potenzialità di mio condominio che vedo approfitto nel dirvi che vedo che i condomini stanno molto utilizzando adesso quindi se avete la possibilità di attivarlo e questo è il momento di farlo quindi nel caso poi cerchiamo di fare una rubrica apposta sul mio condominio sarà necessario fare più di una rubrica sul mio condominio e poi ma io ho pure i condomini miei che vengono a vedermi le video questa cosa è splendida e va bene e io chiudo chiudo qui non volevo tediarvi oltre era un posso dare due info tecniche vai arianna chiede sulla nota sintetica esplicativa arianna chine grandissima amministratrice giudiziale di milano che saluto sarà nostra ospite nelle prossime settimane anche se daniele ce l'ha con le donne milanesi arianna vuoi parlare di nota sintetica a me stiamo organizzando io e valentina una specie di lezione particolare sulla nota si è stato uno dei primi commenti per cui ne parleremo ma non sarà argomento del video del mattino sarà argomento di una delle interviste serali sì argomento importante abbiamo messo un po di note sintetiche sul sul blog su facebook c'è tanto da parlare insomma sulla nota sintetica e tantissimo come già ci ha detto daniele degli interventi sul mio condominio avremo qualche cosa di comunicazione perché l'avete chiesto vedremo di capire con daniele adesso mettiamo giù la live con voi e ne parliamo un attimo se nei giorni di pasqua cambiamo diciamo gli orari del palinsesto ammesso che si possa definire tale o se andiamo avanti così tanto tutti i giorni sono uguali e a pasqua a grigliare non ci andiamo e io vi saluto e vi ringrazio come tutte le mattine dell'attenzione ci vediamo questa sera con l'intervista andiamo in sicilia alle sette lupi dice potresti valutare una puntata soluzione della riconciliazione bancaria ho fatto già qualche video ragazzi però eventualmente vedi sono tutte rubriche danni che puoi segnarti e che possiamo fare della riconciliazione io non ho non ho banca opposta quindi tu lo sai che io ho la memoria dell'elefante come mi hai detto ieri il vero problema è che poi tu non hai memoria quindi io ti chiedo le cose no io mi devo scrivere tutto quindi no nel senso capire se può essere migrabile cosa daniele riesce a vedere la situazione della visualizzazione migliorabile riesce a vedere la situazione delle visualizzazioni degli esercizi d'app mio condominio a si si basta selezionarli faremo vedere bene mio condominio perché una puntata non basta una super puntata lunga magari mettendo un banner ad hoc dove tutti sappiamo che ci dedichiamo un'oretta un po come è stata l'intervista di gialluca l'altra sera oppure spezzando i contenuti in più mattine vediamo come organizzarlo va bene signori grazie 25 minuti grazie della pazienza grazie di averci di averci sentito e buona giornata buon lavoro